Buonasera ben ritrovati si lo so mi trovate ancora una volta seduto comodamente rilassato siamo ancora in fase post feste post natale post ultimo dell'anno e ancora mi sto rilassando ma grazie a dio è nuovamente mercoledì e il mercoledì ritorna puntuale a tavola non si invecchia come vedete se vi guardate un attimo intorno siamo in una location completamente nuova iniziamo un nuovo mese insieme e un nuovo mese in compagnia di un nuovo ristorante di un nuovo ristoratore dove sono sono all'osteria di rendola e se mi seguite intanto vi faccio vedere un pochino le prime cose vi racconto le prime video le prime informazioni sull'osteria di rendola poi ovviamente andremo in cucina però a cucinare un piatto e poi ovviamente avremo avremo un ospite anche stasera un ospite bello un bell'ospite un ospite importante un imprenditore ma è un imprenditore che così diciamo che abbiamo visto poche volte sui nostri non solo sui nostri sui teleschermi però è un imprenditore che sicuramente conoscerete però tutto questo ovviamente ve lo dico ve lo dico dopo andiamo a conoscere meglio le sale quello che ci può offrire l'osteria di rendola venite con me inizio da questa che è così come franca la battezzata è la sala rossa l'osteria di rendola è un'osteria è una struttura più che una semplice osteria ricettiva a 360 gradi famosissima per i suoi ricevimenti per i catering di franca franca è una signora gentilissima cordialissima ed è proprio la cordialità il punto forte dell'osteria di rendola oltre ovviamente alla cucina ma di questo ne parleremo dopo insieme a tutto lo staff dell'osteria soprattutto allo staff predisposto a come dire a solleticare i vostri gusti e il vostro palato una struttura vi dicevo a 360 gradi perché qui ci sono anche al di fuori di qui e poi lo vedremo pian piano nelle prossime puntate delle sale proprio che si possono come dire prenotare si possono riservare a qualsiasi tipo di cerimonia di eventi e ovviamente dato che ormai abbiamo scollinato siamo in fase discendente per quanto riguarda la bella stagione fra un pochino arriverà qui all'osteria lo vedrete anche questo nelle prossime puntate c'è tutto uno spazio aperto anche per le scene estive e quello che invece avete appena visto è il nucleo centrale la sala bianca il nucleo centrale dell'osteria come avete visto già da queste prime immagini la grande sala è divisa in due parti poi nelle prossime puntate vi farò vedere tutto l'esterno e tutte quelle che sono le possibilità di ricezione dell'osteria di rendola ma adesso è arrivato il momento per il sottoscritto di iniziare a lavorare e quindi andiamo in cucina così iniziamo a conoscere anche lo staff dell'osteria di rendola ah voi siete già qui eh no è che io ero andato a vestirmi a far finta di sapere quello che dovrò fare e questa è la cucina dell'osteria di rendola ma ovviamente io senza un mentore non saprei nonostante siano già abbastate diverse puntate non saprei assolutamente cosa fare allora vi presento il mio mentore avrete modo di conoscerlo pian piano durante tutte le puntate con lui non sbaglio il nome perché lui è Fabio sì ciao Fabio e quindi abbiamo fatto scopa nel senso insomma nel senso che ci chiamiamo Fabio allora caro il mio Fabio chef dell'osteria di rendola prima di andare sul vivo di oggi di questo primo nostro incontro, primo nostro piatto che mi farai cucinare giusto per rompere il ghiaccio così ti inizi ad abituare alla telecamera Francesco che è dall'altra parte della telecamera volendo riassumere in due parole la filosofia della cucina dell'osteria di rendola quali sono i piatti forti che l'osteria propone? i piatti forti sono i piatti classici della cucina toscana un attimino rivisitati e poi ogni stagione un menu appropriato alle verdure quindi prodotti del territorio, ovviamente del nostro Valdarno che ci offre sempre tanti grandi prodotti e che cosa chi viene per la prima volta non deve assolutamente non assaggiare cioè detta meglio che cosa deve per forza ordinare perlomeno la prima volta che si arriva all'osteria? ma io penso sicuramente le carni che sono della nostra chianina quindi filetti tagliate, bistecchi e la pasta fresca e la pasta fresca, fra l'altro voi non lo sapete ma io lo so poi avrete un modo insomma tutte le puntate, loro fanno tutto da sé compreso il pane sì, preciso e io ho avuto modo nei giorni scorsi di venire, l'ho assaggiato credetemi, anche soltanto per il pane merita però a quello non avete bisogno di ordinarlo perché vedete quando me lo portano allora, come io vi ho presentato, ho presentato te al loro ora io ti presento, è lì che ci sta guardando la mia nostra telespettatrice di riferimento che è la signora Teresa signora Teresa ben ritrovata passate anche per lei le feste e allora, signora Teresa, è il momento giusto, è questo prepariamo carta e penna perché Fabio mi insegnerà a cucinare cosa Fabio? un tortello di zucca gialla tortello di zucca gialla allora, signora Teresa, è il momento degli ingredienti Fabio, per quante persone? per quattro persone allora, per quattro persone che cosa utilizziamo Fabio? utilizziamo, allora, 200 grammi di farina 200 grammi di farina doppio zero 30 grammi di semola semola 2 uova 2 uova che lo siderano intero soltanto intere 2 uova intere del sale e olio extravergine di oliva poi per il ripieno abbiamo della zucca gialla che l'abbiamo stufata a questo aggiungiamo la ricotta, la noce moscata, sale, pepe, parmigiano e uova e uova mi sembra che abbiamo detto tutti gli ingredienti c'è una cosa cos'è questo? uovo sbattuto uovo sbattuto che mi servirà per attaccare il tortello perfetto vedi i segreti che io non so perché io che già basta serviciare e invece no, dobbiamo usare l'uovo sbattuto come se fosse collante quindi a questo punto possiamo iniziare con la preparazione possiamo iniziare con la preparazione e da dove inizio? prendo un po' di farina sì questa la puoi prendere tutta e la metti tutta tutta la giro tutta completamente perfetto bene un cucchiaio abbondantino così abbondano ancora un altro po' e la metto nel mezzo? sì sì la metto nel mezzo e così e così perfetto anche questa la metti in circolo così perfetto allora uno sì e uno due perfetto ecco proprio un'idea di sale che ho avuto in serato sì sì che ho avuto in serato allora giusto per capirlo io vabbè è pronta perché me l'ha detto Fabio perché io comunque non riesco a capire perché è pronta non riesco a capire la consistenza non sento grani forse sarà quella infatti ecco e poi non deve essere una consistenza abbastanza elastica che sia che sia possibile lavorare in atto allora Fabio a questo punto abbiamo preparato la pasta che abbiamo messo un attimino lì a riposare conviene sempre farla riposare un pochino prima di iniziare a fendere conviene farla riposare magari avvolgerla in un panno umido ma la pasta fresca proprio prima di iniziare a stendere la si può anche preparare il giorno prima si può congelare meglio di no congelare no preparare il giorno prima si può tranquillamente tenendola in frigorifero e ricoperta con un panno umido quello si che non faccia la patina sola perfetto allora pensiamo al nostro impasto abbiamo detto tortelli alla zucca gialla zucca gialla cosa devo fare? prendi un po' di ricotta un po' un cucchiaio fatti ci sei te fai che fai due cucchiai mi dici te basta io 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 ho tranquillo quando perfetto metti della zucca gialla tre cucchiai il mio chef accanto quindi so che lui mi dirà basta signora Teresa lei controlli quando mi dice basta e così anche lei sa all'incirca ci siamo poi un po' di sale un pizzico di sale un altro pizzico perfetto un pizzico di pepe una grattasina di noce moscata proprio un profumo di noce di noce moscata di guai signora Teresa ha visto? già sbaglio già sbaglio la mini grattugia va bene così Fabio ancora? perfetto basta basta poi un cucchiaio di parmigiano io ho sempre a cucchiaiate intere perfetto basta? ancora vai metta vai posto e ora si può impastare vorandra poi la mini grattugia A occhio che misura dobbiamo dargli? Questi saranno 8x8 cm più o meno, io non lo so fare, guardo quello che hai fatto te, io quando arrivo a tagliare mi emoziono. Eccoci, eccoci, per te eccoci, per me eccomi per l'appunto, tutto il nostro impasto. Sì, sì. E che ti fa? Lo spennelli a L. Lo spennello a L, proprio seguendo la forma del pennello. Perfetto. Si fa a L, cioè a triangolo. A triangolo. Le L, i due lati combaciano, si preme per... che poi quando cuociono se no scappa i richiedi. Allora, lo piego così e poi stringo. Questo è tutto. Allora... Aspetta, si mette un po' di semola nella teglia, poi si lasceranno in frigo e quando servono si... Allora, l'hai preso così? Ci va, ecco il dito, perfetto. Io faccio con il destro, alzo un pochino l'impasto. Non ce la farò mai! Alzo un pochino l'impasto e poi giro le due paste sopra e qui schiaccio. No, 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 io non posso sciuparti tutto il lavoro. No, ma guarda lì sembra un nodo di una cravatta, è bruttissimo il mio. No, va bene. Guarda, senza... basta un poco, basta poco. Poi lo rigiri, togli il dito, lo rigiri, vedi? Lo schiacci. No, il dito va tolto, se no sembra più un tortellino. Senti Fabio, facciamo una bella cosa, io vado a prepararmi per l'ospite, ti lascio nelle sapienti mani di Francesco. Signora Teresa, getto la spugna, non ce la fa, guardi come le fa bellini, come le fa bellini Fabio e guardi il mio, un nodo di cravatta. Getto la spugna Fabio, ti ringrazio. Noi tanto ci... avremo modo, avrai modo, avrò modo soprattutto io, di fare brutte figure come questa e grazie per il momento, ti lascio nelle sapienti mani di Francesco che seguirà tutta la parte finale, quindi la cottura, ma soprattutto l'impiattamento. Io vado a ricevere il nostro ospite che fra pochissimo vi presenterò. Grazie.